è da quando ho saputo che sarei diventata la madrina di questa edizione della mostra che mi domando come sarebbe stato adesso tutti mi hanno chiesto come mi sentivo alla cerimonia d'apertura ma vi assicuro che io che tutti quanti noi avevamo solo un pensiero quello di arrivare qui a questa sera ed ora credetemi sono davvero emozionata perché ce l'abbiamo fatta tutti grazie